Benvenuto o benvenuta ad una nuova lezione di MasterExcel.it Oggi vediamo il grafico a dispersione E per l'occasione ho frugato nel mio vecchio hard disk e ho tirato fuori i dati raccolti nel laboratorio di Fisica 1 nel lontano anno accademico 2008-2009 sull'esperienza del modulo di Young Prima di creare il grafico spiego un attimo i dati Avevamo un campioncino, una specie di cilindretto, in questo caso di acciaio qui abbiamo invece l'ottone un macchinario che al posto di pressare come una pressa stirava questi campioni come se fossero degli elastici qui abbiamo la forza applicata dal macchinario mentre qua abbiamo la grandezza del campione come vedi si allunga e andiamo subito a creare il nostro grafico io non ho niente qui sotto quindi posso permettermi di selezionare tutte le colonne A e B vado su inserisci e vado qui su questa iconcina qui del grafico a dispersione eccolo qua posso anche farlo con le linee ma facciamolo solo a dispersione ecco fatto e questo grafico qui è sbagliato la forza applicata non deve stare sull'asse delle X ma sull'asse delle Y per invertire i dati ci sono vari metodi puoi selezionare il grafico tasto destro seleziona dati scambiare righe e colonne e ti fa questo disastro oppure cancelli tutto selezioni la colonna B la tagli ti sposti in colonna A tasto destro inserisci celle tagliate ecco fatto adesso riselezioni A e B eccolo qui questi sono i dati raccolti sul campione di acciaio perfetto direi anche di mettere il titolo degli assi poi come vedi il minimo qui è troppo piccolo andiamo a cambiarlo selezioniamo l'asse X tasto destro formato asse 004 un po' di più ok puoi aggiungere le linee di tendenza da qui altrimenti puoi ritornare nella barra multifunzione e selezionare le linee che preferisci ma adesso vediamo un caso un po' più complicato qui ho i dati relativi all'ottone e se io volessi inserirli nello stesso grafico o meglio avere un grafico con i dati sia dell'acciaio sia dell'ottone il mio consiglio è creare un nuovo foglio in bianco selezionare i dati dell'acciaio questo però lo spostiamo e poi selezionare i dati dell'ottone per nostra fortuna la forza applicata è sempre identica però praticamente si è spezzato prima mentre l'acciaio è durato più molto più a lungo quindi in questo caso possiamo anche copiare solo la colonna A perché ripeto tutti i dati relativi alla forza sono identici questo però dobbiamo chiamarla acciaio e questo attone ecco qui per creare il grafico se selezionassi tutte queste tre colonne inserisci grafica dispersione abbiamo lo stesso problema iniziale ovvero la nostra variabile indipendente deve stare qui sull'asse delle y allora proviamo a fare tasto destro seleziona dati scambia righe e colonne ok e ci fa questo disastro il mio consiglio è selezioniamo una cella in bianco inserisci e creiamo il grafico a dispersione vuoto da qui tasto destro seleziona dati aggiungi aggiungiamo prima l'acciaio selezioniamo l'asse delle x non selezionare tutta la colonna B seleziona solo i valori adesso selezioniamo l'asse delle y cancelliamo questo qua invece possiamo selezionare tutta la colonna A ok 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 bene abbiamo inserito la prima serie adesso di nuovo tasto destro seleziona dati seleziona dati aggiungi e aggiungiamo l'ottone valori delle x come al solito non selezionare la C seleziona i dati eccoli qui invio e per quanto riguarda l'asse delle y di nuovo colonna A qui ti puoi permettere di selezionare tutta la colonna A ok ok ecco qua cambierei il minimo metterei altri titoli anche i titoli degli assi e la leggenda ecco fatto è tutto per questo video non è tutto sul grafico a dispersione noi ci vediamo nel prossimo video dove impareremo a raggiungere le linee di tendenza grazie